ma l'ho fatto così teniamolo così perfettura ingegneria l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto perché ci sono dei lupi qua non mi pare ma scusa qua ci sono 4 miniere perché devi portare il carbone cioè l'ale del ferro sì sembra carbone invece è ferro vabbè il cibo il cibo dia la signora di di fare qualcosa dia questa qua di andare a prendere il cibo perché se no qua se incazza ne sono ragione buongiorno a te quest'area è pericolosa questa città sarà quest'area è pericolosa va bene dovunque guardi in questa città dovunque guardi in questa città sembra che abbia ma non posso essere al meglio se non ho abbastanza cibo sì in effetti qua è una zona pericolosa un calo drastico non da poco adesso sto cercando di fare questo quartiere però un po' di cibo la ne ho preso ah vero posso anche chiedere di darmi il cibo è vero mi sono scordato di poter fare questa cosa quasi quasi lo faccio perché c'è una cosa che loro mi potrebbero dare che è la carne e quindi non sarebbe una brutta cosa cioè ci starebbe aspetta ho festeggiato qualcuno ma non ho festeggiato gli altri che sono più importanti tranne i grandi però vabbè andiamo avanti beh 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 voglio una delle scuole faccio una scuola se tu vuoi una scuola ti faccio una scuola se vuoi un teatro ti faccio un teatro posso andare il cazzo nooo 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 vediamo un po' di fattorie che qua stanno scarseggiamo fattorie come quella di zio do beer che fa io cosa che vogliono un ospedale vogliono un ospedale in questa zona così vogliamo un ospedale sì va bene datemi le persone però datemi le persone guarda ecco le persone il datament ma la legione è tornata ah ah va bene stanno ricominciando gli attacchi fantastici tuoi io nelle biblioteche adesso è un partiere raffinato signore in cui la conoscenza è la prima cosa che deve contare la prima cosa che conta è la conoscenza quindi la testa ah no forse ho capito perché forse ho capito i soldati marciano vittoriosi con orgoglio tutta la popolazione ineggia a loro la gloria e l'intera città è in festa non c'è il 9 la facciamo così perché il problema è qua io faccio un corpo di guardia qua bello attaccato io faccio un corpo di guardia non faccio un corpo di guardia dunque non faccio un corpo di guardia mi bambia fronte in esistц e se perché il po' di rosso il problema è che queste qua non andavano in giro qui e quindi andavano e facevano il giro in più qua quindi non rifornivano bene il quartiere visto? sono raffinati quindi vogliono anche il barbiero raffinatezza come dice Cassano al mercato è finito il cibo perciò me ne torno a casa via vabbè facciamo qualcosa di diverso dai ortaggio grazie a tutti grazie grazie